ciao a tutti e bentornati sul mio canale questa effettivamente la terza registrazione che cerco di fare sullo scontro una serie netflix che è abbastanza caratteristica perché va a contraddistingue nella banalità un prodotto che forse merita rispetto mentre la mia gata si struscia sul momento e sul microfono e quindi sentirete un po di confusione quello che voglio dire è questa serie che vede alla regia i cari e jake schreler e vede come interpreti prevarenti danny ciao nella parte di steven yen e emilao di ellie wrong forse va a smascherare quelle che sono le esigenze di tutti non le esigenze scusate ho usato un termine proprio quelle che sono le pattugne psicologiche di tutti in fin dei conti tutti quanti siamo racchiusi in una vita che è un po caratterizzata dagli stereotipi ma quanto in questi stereotipi noi vediamo la tranquillità la serenità quanto siamo felici nella vita che andiamo a fare ecco lo scontro forse ci offre delle risposte a queste domande che dovremmo oltre che pensare all'interno della nostra mente apprezzare all'interno di questa serie che parte in un modo forse banale per poi sviscerare quelle che sono introspezioni più profonde che si vanno a palesare alla fine della serie stessa quanto due persone che in un parcheggio si incontrano si suonano il clacson avvicendevolmente possono arrivare a litigare nel mondo moderno ecco questa è una domanda alla quale dovremmo forse paventare più e più risposte perché oggi social network ci offrono delle soluzioni alle quali una volta nemmeno potevamo immaginare per questo motivo è palese ipotizzare che un'imprenditrice che segue un'azienda anzi che è titolare di un'azienda per diciamo piante ordamentistica perché questo fa possa incidere o invadere un'azienda di un tuttofare che effettivamente è meno organizzato con recensioni negative tutto questo perché si è avuto uno scontro in un parcheggio che ha dato conseguenze alquanto traumatiche riprese per lo più da vicini che vivevano nel medesimo quartiere che quindi hanno ripreso appunto questo scontro diciamo tra autoveicoli che è andato poi a dilagare anche nelle proprietà dei vicini quanto questo può incidere nella routine e nella quotidianità dei due individui alcuni di noi potrebbero rispondere in un modo alquanto alquanto qualunquista si so qualunquista un termine che mi piace si poco perché io sono proprietario del mio destino se tu sei proprietario del tuo destino quanto io sono proprietario del mio però a volte succedono cose che vanno al di fuori degli schemi canonici che possono effettivamente andare a incidere sulla normalità delle persone o delle cose che le persone pensano. Lo scontro è effettivamente l'esempio di quanto la normalità possa essere poi rivista e rivisitata da quelle che sono le patturnie e come dire come direbbero i giovani forse le paranoie che vanno poi affliggere questa generazione o anche l'altra generazione cioè la mia quella venuta prima perché qua stiamo parlando di individui che hanno abbondantemente passato i 40 anni. Quanto una patturnia un tarlo può arrivare a distruggere una famiglia un nucleo familiare o la tranquillità di una vita ecco a questo effettivamente non ci sono molte e molte le sposte cioè un tarlo può diventare estremamente insidioso può effettivamente essere nutrito e alimentato da quella che poi è la follia e può andare avanti per tanto e tanto tempo fino a non giungere neanche mai. Alla fine oppure effettivamente strabordare in quelle che possono essere epilogi alquanto sconvenienti e drammatici. In questo caso lo scontro con sapienza ci descrive quelle che sono le sfaccettature di tutti i personaggi primari e secondari che vanno a alimentare questa storia e ci spiega quello che potrebbe essere l'epilogo triste per persone che nulla hanno da invidiare ad altre oppure per persone che invece tutto hanno da invidiare ad altre. Perdonate la ripetizione di altre ma in questo caso era necessario per la costruzione della frase. Quindi lo scontro non è solo una faida tra sconosciuti è qualcosa di molto più profondo che viene attraverso una scenografia e una regia molto sapiente oltre che chiaramente una fotografia che è molto focalizzata sul dettaglio ma era facile perché le ambientazioni che ci vengono proposte sono quasi tutte familiari quasi tutte contingentate al focolare familiare poche volte vengono proposte all'esterno ci offre appunto vi stavo dicendo una scenografia una fotografia una regia una intraspezione uno spettacolo molto dettagliato di quello che le persone potrebbero fare quando perdono di vista qual è il loro scopo prevalente in questo mondo ovvero la felicità la tranquillità l'equilibrio. Questa serie va quindi a scavare lo fa un pezzettino alla volta perché partendo dei primi episodi si potrebbe ipotizzare che lo faccia con un po' di qualunquismo lo faccia con un modo alquanto gioviare di descrivere le cose ma andando avanti e scavando profondamente sempre più profondamente si si rende conto che mentre le puntate passano e qualunquismo viene lasciato un po' da parte si rende conto effettivamente che la serie merita rispetto e lo merita perché va a analizzare quello che potrebbe essere una problematica comune e lo fa senza mai cadere nel banale non è una cosa scontata cioè tutti quanti possiamo litigare in un parcheggio con uno sconosciuto tutti quanti possiamo prendere il numero di targa dello sconosciuto tutti quanti possiamo fare ricerche online non neghiamolo su saremo ipocriti no nel negarlo saremo alquanto ipocriti ma poi quando saremo in grado di fermarci ecco questa domanda ha una risposta molto semplice dipende dal livello della nostra frustrazione e lo scontro lo scontro questa serie lo sa e lo descrive in modo che almeno gli spettatori più attenti possano effettivamente accorgersi che il limite oltre il quale potremmo andare è semplicemente un limite che è nascosto nella nostra mente partendo da questi presupposti quello che effettivamente quindi va a caratterizzare la serie è il modo col quale un evento banale venga descritto in modo maniacale con le varie ipotesi di sviluppo che la trama e la storia possa prendere e lo fa effettivamente dando credibilità a una delle sfaccettature a una delle pieghe che la storia possa prendere perché a tutti a tutti è innegabile lo ribadisco saremo degli ipocriti se negassimo quello che io sto affermare in un momento sto affermando perdonati in un momento di ira tutti quanti abbiamo pensato di andare oltre quello che effettivamente è il consentito l'ipotetico o quello che effettivamente il mondo ci impone di pensare così due persone due sconosciuti che si incontrano e si scontrano in un parcheggio non possono diventare acerrimi nemici acerrimi nemici scusate maggiore parole non è colpa mia oppure possono dimenticare quello che è successo ma voi voi al loro posto cosa avreste fatto domandatevelo mentre guardate questa serie mentre focalizzate il vostro interesse su una serie che forse vi è passata in sordine domandatevi che cosa potreste pensare se li trovaste nella medesima situazione arrivando quindi a quella che potrebbe essere effettivamente una votazione equilibrata si può dire che lo scontro non possa meritare meno di sette perché perché si vuole del coraggio ad avvasare una serie ad affrontare una problematica che poi alla fine fa parte del comune di vivere comune quanto può incidere sull'equilibrio mentale di due persone squilibrate un semplice scontro che avviene in un parcheggio a questa domanda c'è solo una risposta che è quella più plausibile un semplice scontro avvenuto in un parcheggio può andare di incidere su una flebile mente umana in proporzione a quanto la loro frustrazione permette di fare lo scontro ci fa capire la serie su Netflix effettivamente che non c'è limite al peggio e soprattutto non c'è limite a quello che può accadere tra due individui però lo fa con classe lo fa con maestria gli scenografi e i registi effettivamente ci portano alla conclusione che non è nemmeno tanto ovvia perché molte sono le conclusioni ipotetiche alle quali voi potreste aggiungere ma solo una alla fine è quella giusta e non è così scontata come si potrebbe ipotizzare due persone che tanto si odiano arriveranno forse mai ad amarsi la risposta è no ma potrebbe essere anche in un universo totalmente stravolto da quello che noi abbiamo costruito potrebbe anche essere sì pertanto io vi dico guardate lo scontro so che questa recessione potrebbe sembrare addirittura delirante ma io vi suggerisco di guardare lo scontro perché alla fine regia scenografia e fotografia ci offrono un grande risultato gli interpreti Danny Cho e Amy Lau vanno a creare personaggi mastodontici e forse quelli secondari non sono assolutamente da meno viene messo sullo schermo qualcosa che effettivamente mancava da molto tempo da prodotti come un giorno di ordinaria follia o prodotti similari ovvero la follia di persone che da un comune evento quotidiano delirando vanno avanti sino a che l'inevitabile o l'irreversibile non faccia parte della loro vita devastando tutto quello che fino a quel momento sembrava o definivano come normalità quindi io vi dico se volete guardate lo scontro perché effettivamente è una pelliccia piccola che merita un minimo di rispetto ho detto questo se le mie recensioni strampanate dovessero sembrare quanto meno logiche vi invito a mettere un mi piace se volete ma se non volete uguale a iscrivervi al canale e detto questo io vi auguro un buon proseguo di giornata e di fine settimana ciao ciao da Amy ciao 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 ciao